Il varo di Corsara di oggi per il Circolo Velico è un varo importante, prima di tutto perché diamo seguito a quanto avviato già dal settembre scorso col varo di Speziale e soprattutto diamo seguito all'accordo intercorso e sottoscritto con Promo Studi e Circolo Velico su dare continuità a questa presenza delle barche di Promo Studi all'interno del nostro sudacidio. Fa parte del nostro statuto, è una missione, noi siamo molto molto lieti di aver spretto questa collaborazione con Promo Studi, ci auguriamo che possa avere un seguito, i ragazzi tengono le barche qui, vengono da noi, frequentano la nostra sede, mettono a punto le barche, fanno modifiche, vivono le loro barche all'interno del nostro circolo. Questa è una forma di integrazione, credo che sia la migliore possibile e che fa capire l'importanza di punti di tradizione come il Circolo Velico e come la Cannottieri Velocior possano rappresentare per la città degli sbocchi molto utili e soprattutto siano una riscoperta alla luce di questa nuova vocazione che la città si è data a partire dalla festa della Marina.